Idee imprenditoriali e business plan al centro del concorso denominato Startup. In finale sono giunti sei gruppi e un'attenta giuria ha decretato i migliori. Il primo posto se lo è aggiudicato il team Holba grazie a un ambizioso progetto, ossia quello di portare sul mercato alcuni orologi da polso in legno e metallo. Usiamo dei prodotti altoatesini, gli attigiani sono anche altoatesini, tutti specialisti e speriamo di produrre un prodotto che accontenta i appassionati degli orologi ovviamente. Per quanto riguarda il premio decretato dal pubblico si è distinta la squadra coordinata dalla giovane imprenditrice Sara Pellicari. Ho lavorato in ospedale, sono farmacista ospedaliero, ho visto i pazienti a disagio, ci sono le cure, ci sono i farmaci, devono essere presi, non ci sono alternative, ma ci sono alternative sulla tipologia di crema, devono essere veramente una carezza per la pelle le creme e attualmente la tecnica farmaceutica non è molto attenta a questo, lo può essere invece la tecnica cosmetica da cui attingo l'abilità nell'allestire le creme ma la professionalità dei principi funzionali che arrivano dalla farmacologia. Un concorso, quello che si è concluso recentemente, che porta due firme importanti, quelle del gruppo Giovani di Asso Imprenditori e del Tissi Innovation Park. Lì fuori ci sono tantissimi ragazzi che hanno altrettante ottime idee e bisogna motivarle per venire qui da noi e realizzarle.